Sai che cos'è? È che in questo periodo di grande smarrimento, soprattutto nei ragazzi, nei giovani, hanno creato dei modelli di successo, che sono l'influencer, che sono quella che ha dei like perché fa vedere le tette. Io voglio 20.000 euro con le fans, per cui ti ho detto la mercificazione del proprio sesso, in qualunque forma uno la voglia fare, diventato fondamentalmente una maniera come un'altra per campare, quando ribadisco, quella è una sfera che è in teoria privata, proprio perché più è importante e più ti può muovere, più ti può muovere e più in qualche maniera avrà un'incidenza profonda sulla direzione della tua vita, perché l'essere umano, al di là della capacità logica della quale ci quantiamo molto spesso, poi alla fine viene mostro dalle emozioni, che con la logica non c'entrano niente. La paura la sanno utilizzare benissimo, l'abbiamo appena visto, la paura è un'emozione, ma anche l'amore è un'emozione. Però è un'emozione molto complessa, perché in realtà ti pone di fronte a tante domande, è uno specchio che tra l'altro chiede veramente a te. Ma tu, che cos'è il tuo amore? Quali sono i limiti di questo amore? Dove inizia? Dove finisce? Dove è diretto? Che senso ha? Iniziare a esplorare non quello che dicono i poeti, non quello che dicono i filosofi, men che meno quello che dicono gli influencer piuttosto che i politici, ma dentro di te, alla fine di cercare di capire che cosa per te diventa significativo. Più tu riesci a capire veramente cosa muove te, e più sei su un percorso di raffinare te stesso, che ti porterà a nuove vette, a nuovi incontri, a nuovi movimenti, che paradossalmente, se mantenuti costanti nel tempo, ti portano a avere emozioni e cose che sono ancora più reali oggi di quando avevi vent'anni, proprio perché sono il frutto di un lavoro costante, non di guardare ciò che non va bene nell'altro, ma di capire qual è la tua verità. Ma sai, io ho visto un video, sai, dopo il crollo, diciamo, del mito di Chiara Ferragni, tanti influencer stanno accrollando, è come si hanno scoperchiato il vaso, hanno fatto vedere... Ferragni, quella con l'occhio come simbolo? Quella che usa l'occhietto? Ferragni? Sì, sì, mi pare. No, no, non credo, non lo so, non l'ho mai seguita come il tuo. Sì? Ah, l'occhio. Sì, sì, un occhio così non ti ricorda niente, io non ho mai visto un occhio. Cos'è l'occhio? È una roba massone? Vabbè, allora, comunque c'era una ragazzina, una ragazzina, che diceva, ma, piangeva, ma adesso che non faccio l'influenza, ma io devo andare a lavorare, ma io non voglio lavorare, ma, ma, cioè, poi piangeva, cioè, paradossalmente mi faceva un'incredibile pena, perché poi alla fine è insegnato tutto, io non ti dico poi nel campo musicale, campo musicale, hanno creato dei disastri incredibili, perché io parlavo con uno che è un tecnico del suono... Posso fare una domanda io a te? Sì. Questi disastri incredibili, no, questa, secondo me, questa barbarie musicale che oramai è diventata mainstream in qualche maniera, non è anche questo voluto, proprio perché io ho la sensazione che meno la vita in realtà ti rappresenti bellezza, armonia, profondità e significato, e l'arte in questo, in particolare la musica, era appunto una via di abbeveramento proprio dell'anima rispetto a tutta una serie di cose, e questo appiattimento verso una superficie assolutamente inutile, consumabile, è la stessa cosa che hanno fatto con la musica, no, stessi ritmi, stesse voci che non cantano neanche, parlano, parlano di soldi, parlano di sesso, parlano di niente, eppure mettono queste tre parole, riginnandole insieme, vanno avanti anno dopo anno, proponendo qualcosa in realtà che non dà mai combattito di cuore. Guarda, io ti dirò una nuova che ho ripetuto tante volte, cioè la musica, c'è stato un periodo che ha avuto un'importanza enorme nella società, la musica ha contribuito alla fine della guerra in Vietnam, la musica ha fatto finire l'apartheid con Sun City, con Fri Nelson Mandela, con tutti questi movimenti d'opinione, hanno deciso che basta, avete rotto il cazzo, cioè nel senso che non potete, cioè quando tu vedi Bush che in buona fede o mala fede, in buona fede Bob Geldof sì, l'altro non so, deve ricevere Bono e Bob Geldof perché, perché hai fatto così con Bono, comunque quando deve ricevere Bono e Bob Geldof che gli dice che devono cancellare il debito con i paesi africani, cioè lui li riceve perché tutti i giornali, ma dopo dice ma perché cazzo io devo parlare con questi qui, ma noi abbiamo gli interessi economici in Africa, che cavolo vengono a rompere le scatole e facendo così hanno cancellato la musica prima rendendola gratis. quando uscì c'era, come si chiama, Napster che parlava di musica gratis, io nelle chat dicevo guardate che è una truffa, ma no, sei contro la musica, sei libera, ma non avete capito un cazzo, dopo due anni Napster era lo sposo della fiera musicale di Cannes, quindi per far capire come dietro c'è un disegno per cancellare la musica, ma ti dicevo invece dei danni psicologici perché adesso stanno, una persona che ho conosciuto, conosciuto di Registrondici, sono andati da lui tre vincitori di talent, tre, che sono da psicoanalisi, perché non sanno più cosa fare, perché prima avevano le luci, eccetera, e poi dopo finito tutto fuori dai coglioni, capito, quindi stanno creando questa illusione che tutto è semplice, tutto è facile, tutto è, capito, tutto è, ho qualcuno che mi dice come si fa a diventare redroni, non è che si diventa redroni, cioè, diventare redroni, gli ho detto, è la successione di tanti no dolorosi, cosa vuol dire? Vuol dire che dici dei no, molto dolorosi e diventi redroni, altrimenti, altrimenti diventi molto più ricco, eh? Grazie. Grazie.